Eres omosexuale? No, io no. Ma... La prima domanda, eres omosexuale? Stiamo in Italia, un paese europeo dove se ero omosexuale non puoi casarti. Sois omosexuale? No. Che opinan della omosexualità? Oggi è una realtà. L'omosexualità era vista un po' come un insulto alla religione. Aceptata e tollerata nella società. Ognuno nella propria vita può fare quello che vuole. Una diversità che va rispettata come tutte le altre. Io penso come lui, che ognuno può fare quello che vuole. Nessuna opinione, ognuno è la natura. E' libero da quello che vogliono. Però il matrimonio e le adozioni assolutamente no. È una cosa normale, è un interesse per un altro sesso. Entrambe possono dargli i giusti affetti, però comunque non è una cosa che secondo me va anche contro la natura. Sono ancora un po' ignoranti a riguardo e che giudicano con troppa facilità, forse. Dovrebbe l'omosexuale avere la possibilità di abierta adozione? No. Cioè sì? Sì? Assolutamente no. Perché sono uguali a noi tanto, anche se sono così, sono sempre umani. Sinceramente sono contrario alle adozioni e ai matrimoni. Sono persone come noi. Dipende. Non vedo perché non debbano averla. Oggi è nel 2006. È un po' presto. E riguardo all'adozione, secondo me la figura della madre è una figura molto importante per un figlio. L'adozione può creare dei problemi di diverso tipo. Ci deve essere un padre e una madre, non due padri o due madri. Sì, noi siamo per l'adozione anche per loro. Che le pare che l'Italia sia la colla d'Europa in quanto integrazione sociale del collettivo omosessuale? Sono un po' sorpreso perché, visto il gran numero di omosessuali che ci sono in Italia, che non si è ancora apprezzato questo tipo di andamento, diciamo. Non c'è rispetto, non c'è la mente lì, aperta, questo argomento. Quando sento parlare di omosessuali, la maggior parte delle volte non sono cose positive che sento dire. Non ho parole proprio, guarda! Questa cosa non mi piace. Io penso che da questo punto di vista l'Italia sia un paese un po' arretrato. Il problema è anche dovuto al fatto che noi abbiamo una tradizione religiosa molto ancorata. Che soluzione è bella a questo tipo di problema? Se un giorno verrà approvata questa cosa, approvare l'omosessualità. Il problema dell'Italia è il Papa. Il Papa è che ci tiene a freno su queste cose liberistiche. Il Papa no. È la religione, no, è la religione. La religione qui in Italia non è che sia tanto d'accordo. Mi capito. Boh, che potrebbero fare quello che vogliono come tutte le persone normali perché alla fine non hanno niente di diverso. Se tu avessi un hijo omosessuale, cambiaria questo o qualcosa? No, perché è mio figlio, però... Assolutamente niente, è mio figlio e mi va bene così. Non lo so quanto lo accetterai. Credo che l'amore per un figlio non dipenda da queste cose. Speriamo che in un prossimo futuro cose cambiano, insomma. E già sai, se ti ha gustado, suscríbete e comparte lo. E se non è spagnolo, non ti preoccupi che ti ha un montón di video subtitulati, tanto in inglese, italiano, lo che tu quieras. Asi che ala, tirami ya. Speriamo. Speriamo. Grazie per la visione!